E questi erano i Tiro Mancino alle 8 e 31 minuti, bentornati qui a Crystal Radio, Good Morning Milano Adesso io vi ho detto che dovete avere la forza, se la forza non è con voi cercheremo di averla grazie al nostro ospite di oggi Sto parlando di Matteo Menin, maestro di Spada Laser dell'Accademia JG Saber Academy, che è una JD Generation Academy Buongiorno maestro Buongiorno, grazie mille per l'invito Allora oggi parliamo di Spada Laser Sì Ok, che voi pensate sia una roba, eh, ma adesso sentite cosa c'è dietro, perché pensate, l'Academy esiste, la JD Generation esiste dal 2012 Dal 2012, sì Quindi più di 10 anni Più di 11 anni ormai Infatti, come si fa a diventare dei maestri JD con questa spada? Allora, anzitutto frequentando il corso, però va bene, fondamentalmente noi andiamo a studiare quello che è il combattimento coreografico Ok Quindi sviluppiamo degli spettacoli in modo tale da poter riportare in scena dei combattimenti in stile Star Wars, non facciamo una vera prefera scherma Ok Quindi il nostro studio appunto è lo spettacolo, come fosse una sorta di wrestling, però in tema Star Wars, per così dire Sì, lì poi c'è la differenza, sono i JD e i Paduan, giusto? Ma che funziona quella roba lì? No, come che sono? Io non so mai Spiegamela bene, perché poi dopo si sbaglia qua, io devo dire la verità, sono legato i primi tre film, poi dopo mi sono un po' perso lungo la strada, quindi Ma gli ultimi tre magari anche no Ah, piccola vena polemica Comunque, fondamentalmente ci sono due schieramenti, lato chiaro e lato scuro, ci sono i JD e i Sith I Paduan, che citavi prima, sono gli apprendisti più giovani dei Jedi Ah, ok, quindi sono quelli del light side, non dark side, ma light side Esatto, sono i piccoli light side Ok, perfetto Infatti nel momento in cui ci si iscrive, per il primo anno, fino al primo esame, si è effettivamente Paduan, poi si sale di grado È come i pulcini nel calcio, capito? Eh, più o meno sì Quando poi arrivati in serie, anzi, in Champions League siete dei Jedi, oppure dei Sith, dall'altra parte, no? Ma si sceglie il lato da acquistare o ci si ritrova? Cioè è una cosa che è dentro di noi, no? Non so come funziona È soggettivo Ah, è soggettivo Allora, se ti piace come una questione estetica, perché vuoi fare il cattivo, puoi scegliere a nessuno che te lo vieta Nel momento in cui... Invece se sei proprio un bastardo di natura, cioè no, scherzato Sì, esatto Se no, dipende, se di tua indole, non per motivi estetici, vuoi fare il cattivo Puoi scegliere un lato o l'altro, puoi scegliere liberamente Ok, perfetto Ma, insomma, noi adesso qui ci scherziamo e immagino che tutti quanti, di base, ci sia una voglia di divertirsi Indietro a questa iniziativa, però in realtà è una cosa seria, perché appunto ci sono dei corsi che si fanno Dove si imparano appunto delle coreografie, dicevi, no? Come funziona l'Academy? Allora, l'Academy come percorso d'apprendimento, diciamo il percorso base, è suddiviso in quattro anni In questi quattro anni si studiano i vari stili con la spada laser, ispirati ai vari personaggi Poi, tutto quello che è la parte di coreografia è la messa in pratica di questo apprendimento delle forme di combattimento Quindi, fondamentalmente, si è in due per iniziare, quantomeno Si decide come sviluppare la coreografia Che colpifare Poi, almeno come fosse un ballo, in un certo senso E poi, una volta che si è stabilita La si prova, la si prova E la si porta in scena ai vari eventi Con o senza costume A seconda, abbiamo anche le magliette dell'Academia Il costume è più figo Ebbè, immagino Perché poi, appunto, è quello che avviene anche poi nei film Comunque c'è una coreografia che viene studiata, no? Dicevi gli stili dei personaggi Perché ogni personaggio ha un suo stile particolare Sì, esatto Ah, cioè, fammi qualche esempio Ma, facciamo un esempio proprio semplice, semplice La prima forma di combattimento è quella di Luke Skywalker Ah, proprio Quindi, molto semplice, netta, fondamentale come tecnica, anche vedendo i film Molto semplice Cioè, nei film lui tiene sempre quella tecnica lì Esatto, sì Perché i coreografi l'hanno sviluppata in quel modo Banalmente, invece, la seconda forma, quella del Conte Dooku, che è Christopher Lee È stata sviluppata sul fatto che lui era molto abile nella scherma E per aiutarlo combatte prevalentemente a una mano A differenza di Luke, che è più a due Poi, se si fa vedere, tipo Obi-Wan e Anakin Tipo nel combattimento col tre Hanno due stili molto simili Ma sono due stili differenti Uno più offensivo, uno più offensivo Ogni personaggio ha un po' il suo stile E i coreografi hanno sviluppato, appunto, questi stili Per dare anche un carattere maggiore ai vari personaggi E chi sono i vostri coreografi? Noi Gli istruttori siamo E come siete diventati istruttori di una cosa del genere? La siete inventata da zero? Avete trovato da qualche parte E avete detto Ah, no, dobbiamo portare anche in Italia questa idea Oppure, aspetta, ho visto i film Sono così appassionato Che voglio farlo e insegnarlo a tutti Allora, diciamo, tutto è nato dal nostro fondatore nel 2012 Emanuele Terzano E... Ok È nato da Emanuele Terzano Che ha detto Ha visto quello che erano i film Si è appassionato al mondo di Star Wars Ovviamente durante il corso della vita E avendo lui già dei progressi in ambito ballo In ambito arti marziali Ha detto Uniamo un po' il tutto Creiamo un'accademia In cui possiamo andare a Creare delle coreografie a tema E poi gradualmente si è sviluppata Per diventare istruttore Bisogna fare Anzitutto iscriversi Frequentare Giusto Un attimo il corso Almeno per due anni E poi passato il secondo esame Se si vuole Si può decidere di interprendere Questo percorso da istruttore E gradualmente Andare a Formare delle classi E poi piano piano nel tempo Se ci si sente anche pronti Si può valutare di diventare maestri Le spade laser Come sono fatte? Non si rompono Cioè come sono fatte queste spade? Ci chiedevamo No 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 Nella realtà Perché appunto Pensando che non avete Un GFX Grafico che vi segue Vi fa degli effetti speciali dal vivo Saranno fisiche queste spade No? E come Non si rompono? No allora Fondamentalmente c'è l'elsa Ok Che è la parte appunto L'impugnatura Che è in metallo Ah Internamente C'è l'elettronica Immagino che su questa situazione Da casa pensano Ah si quella roba lì Ho comprato al toys E non è quella roba lì Cioè Non è quella roba lì Allora è quella roba lì Ma molto più voluta Ecco E' come se volete fare la scherma Con la sciabola dei pirati Presa Eh forse non è proprio valido Sì esatto Però in pratica L'elsa è di metallo Internamente c'è l'elettronica Composta fondamentalmente Da batterie Il pulsante E il led C'è altro Ma facciamola semplice E se si vuole c'è anche il sound effect E poi la lama È fondamentalmente Un tubo Di policarbonato Con una punta Arrotondata Con l'interno Un tappino Che è Che è riflettente E internamente Una pellicola Anche se è riflettente Quindi fondamentalmente La luce parte dall'elsa Arriva al tappino Rimbalza avanti e indietro E illumina La lama Essendo policarbonato E poi è molto resistente Le producono dove queste spade? Cioè se non c'è un Chi è l'attorianzo Delle spade Questa è la citazione Ragazzi Cittazione Pulp Fiction Chi è che No Kill Bill Scusa Kill Bill Scusa Kill Bill Sempre Tarantino No no Kill Bill Chi è che produce queste spade Fighissime Mi viene da dire Anzi dopo So che le hai portate Dopo lo voglio vedere Allora ci sono vari produttori Però Faccio un attimo Da sponsor Tra virgolette Ma ci mancherebbe Il nostro fondatore Emanuele Terzano Sito Emavox Studio Art Le produce per noi Quindi Quelle per la nostra accademia Sono Le sue proprio mirate Poi ci sono altri produttori Ma noi usiamo prevalentemente Le sue Perché sappiamo che La qualità c'è Altri Sì Altri No Quindi Tendiamo a rimanere Più su quelle Interessante Interessante Anche che appunto Non è solo quindi La coreografia Ma è anche Proprio la produzione Delle spade E chi è che viene A darsene Di santa ragione Con le spade laser Intendi come tipo di persone Sì Chi sono? Chi sono questi nerd? Nerd di sparate Nerd sicuro No Sì E tutti fan di Star Wars Avete con qualcuno Che è arrivato Non so minimamente Niente di Star Wars Ma voglio No Allora Bene o male Tutti conoscono Star Wars Ma anche al di fuori Dell'accademia Generale Sì guarda Solo qui abbiamo Una persona Che non ha mai visto Star Wars Lascia stare Stendiamo un velo pietoso Va bene Lorenzo Masieri Un saluto a Lorenzo Va bene No comunque Di base A livello di età Viene praticamente chiunque Abbiamo allievi Che partono dai 13 anni Vanno anche sui 50 Quindi è molto terogenea la cosa Di base Tutti quanti vengono Perché gli piace Star Wars Però nel momento in cui Comunque Dovesse uno venirmi E dire Guarda io non l'ho mai visto Però voglio far questo Gli dico Vieni Vieni nel lato scuro Eh sì Comunque adesso Andiamo con un po' di musica Ma io voglio Dopo parlare bene Per capire veramente Anche magari ci dai qualche consiglio Sulle mosse basi Che si possono fare No Così capiamo un po' Quali sono Qual è la prima posizione Qual è la danza Cioè plie Prima posizione Seconda posizione Abbiamo delle danzatrici Di là Credo In Reggio Mi spiegano meglio Chissà che ci sono I fondamentali Che abbiamo capito Però a partire Un po' Prendendo spunto Dal Luke Skywalker Cioè lui è La base Lui è la base Vabbè Andiamo adesso Un po' con un po' di musica Siamo di Annalisa Con Sinceramente Poi torniamo qui A parlare Della Jedi Academy E a parlare appunto Della Spada Laser Che poi io Tra parentesi Ve lo dico Dopo facciamo un bel video Ve lo mettiamo Sui nostri social Potete seguirci Goodmorning.milano.it Sinceramente Annalisa 844 minuti Crystal Radio Goodmorning.milano Stiamo parlando di Spada Laser Con JD Academy Con JG Cyber Academy Jedi Generation Tu Non te l'ho chiesto Tu sei Un Jedi Sì sei un Jedi Non sei un Sith Sì sì Un maestro Jedi Non sei un Sith Ok Ma ci manca Sentite quanto asteo c'è Giustamente Sennò come si fa A combattere Se gli vuoi bene A quell'altro Non puoi Infatti saluto Gabriele Che è un Sith L'altro struttore di Milano E Gabriele Forza ha dato chiaro sempre Ecco Un abbraccio Ma Diciamo che Una cosa interessante Del vostro sport Infatti uno sport Diventa poi In quel punto È che Una volta si diceva Del nuoto Uno sport completo Anche voi Perché praticamente Voi siete un po' Come fosse Una sorta di wrestler Che però Usano invece che Le mani Usano la spada Sì fondamentalmente È la stessa identica cosa Poi anche a livello Di allenamento Se non riconcusi Tutto il corpo Tendi veramente A potenziare tutto Se vuoi Spingere ad allenarti Seriamente Puoi allenarti Tutto anche In maniera funzionale Quando è che si supera Lo shock iniziale Del sentirsi un po' Ridicoli con una spada laser Dai te lo faccio La domanda Che insomma all'inizio c'è Allora In primi tempi Ti senti un po' pirla Dai diciamocelo Dai Dipende Poi dopo però Diventa seria Quella cosa Quella roba lì Secondo me Dalla prima esibizione Perché finché sei in palestra Sei nel tuo ambito chiuso Ti diverti però C'è un gioco Esatto Sì esatto È uno sport Però adesso rimane comunque lì Nel momento in cui invece Ti esibisci Magari ti scatta Quella cosa che dici Ok adesso Facciamo un po' più sul serio Infatti noi abbiamo Il festival del fumetto A Novegro Che ha un palco Nel padiglione Bello grande Con la passerella Noi lo chiamiamo Il battesimo di fuoco Perché se uno fa La prima esibizione lì Che sei sul palco Davanti a tutto il padiglione Pieno di gente Un po' di paura ce l'hai Però vai Da quel momento lì Poi ti butti Il padiglione di gente Che non è lì a giudicarti Ma anzi È lì a sognare Di essere lì Molto probabilmente spesso Perché insomma È quella la verità Cioè no Perché se lo dico Adesso chiamiamo mia zia Dice Ma sei funky ski Ma se andiamo a Novegro Secondo me Ma se andiamo a Novegro Secondo me ti dico Ma vorrei essere io Lì sopra Va che bella quella spada La vorrei io Sì è abbastanza Poi nel momento in cui vai su Che inizi a capire Come giocare col pubblico Comunque c'è un minimo di legame Nel momento in cui sali È proprio differente Arrivi su Riesci a coinvolgere il pubblico Nel momento in cui finisci la coreografia Se senti che c'è un bel applauso Ti riempie Ti riempie il fatto Che dici Ok Abbiamo creato un bel legame Abbiamo fatto bene Lo spettacolo è venuto figo Ecco ma questi spettacoli Voi li fate per varie situazioni Immagino Come funzionano Cioè C'è la fiera del fumetto Ma anche per altre Altre situazioni immagino Sì Allora Oltre alle varie fiere comics Che andiamo Che veniamo invitati Abbiamo fatto un evento Molto bello Alla Rocca d'Angera Per un matrimonio Che eravamo in piazza Darmi della Rocca E abbiamo fatto questo spettacolo Che avevano tappezzato Tutte le finestre Dell'interno Cortile della Rocca Con le bandiere dell'impero Abbiamo fatto lo spettacolo Lì in mezzo Per un matrimonio Per un matrimonio Sì È stato bellissimo Poi abbiamo lavorato Chi era la principessa Leila Che si sposava Chi era Il matrimonio della principessa Leila Chi era Guarda Per com'era il matrimonio Era tutto quanto a tema Ci hanno chiamato in tanti E ci hanno fatto fare Gli spettacoli Alcuni hanno fatto anche I figuranti All'interno del matrimonio Pensa te Bello Sì Avrei visto Chi era l'ufficiante Mi sarebbe piaciuto vedere Chi ufficiava Chi li ha sposati Era leader Ah era proprio leader In persona Esatto Era lui Però che ne resta Bene Ma aziende che vi chiamano Per fare cose Non ancora Era strano Ah eh Immaginavo Che ci sono Allora Subito A parte Qualche evento Abbiamo fatto in discoteca Per alcune serate Ci hanno chiamato anche per alcune aziende Per fare tipo le serate Quella team building Ah team building In cui andavamo là Ad esempio Proiettavano l'immagine di un personaggio Ok Raccontavano un po' quello che era A livello psicologico Quel personaggio Per fare associazioni con l'azienda E poi da lì Facciamo gli spettacoli Dopo ogni presentazione Ah bene Quindi Beh team building è interessante Potremmo fare tipo noi I capi Fanno i sit E gli stagisti Fanno i jedi C'è la rivincita dello jedi Facciamo Si però mi sa che Finisce l'ordine 66 Facciamo così Facciamo E Dicevamo appunto È fondamentalmente Una danza Anche spesso Rolentieri Non avviene Come fosse Un vero e proprio balletto E avviene appunto Con Sia gli maestri Che gli studenti Quando è che Dopo quanto Secondo te Uno studente Può poi passare A fare appunto Il famoso battesimo Del fuoco Che ci raccontavi prima Della prima esibizione Sì sì Cioè da quanto Io quando inizio il corso Dopo quanto Potrò passare a fare La prima esibizione Ma Allora Io quando la feci 2016 Dopo neanche un mese Avevo fatto Il primo spettacolo Con Gabriele Per l'appunto Ci sono alcuni ragazzi Che Aspettano un po' di più Dipende anche Da come si è preparati Da come Si è in un certo senso Lanciati nel farlo Noi consigliamo di farlo Quando si è pronti Ovviamente senza Indugiare troppo Perché a un certo punto Devi un attimo Spingerli Poi nel momento in cui vanno E come entrare Nell'acqua fredda Della piscina Quando sei dentro Hai fatto Senti Mattiero Dacci un po' di informazioni Su come iscriversi Dov'è l'accademia Non è solo a Milano Ma Ovviamente Parliamo di Milano Dacci un po' di informazioni Da che ci interessano Allora Come sedi Abbiamo La prima È Salessandria Poi Abbiamo Sempre in Piemonte Torino E Acqui Acquiterme Il Lombardia C'è Milano Pavia E Milano Milano e Pavia Scusate Soltanto Poi vabbè C'è Bologna Ravenna Logo Beh però Qualcun'altra di sicuro Però non vorrei Di asciocchezze Beh insomma È un po' ovunque In tutto questo Però c'è un sito Qual è il sito? I siti sono due Sono JDGeneration.it JDGeneration Ok E JGShowacademy JGShowacademy.it Trovate tutto quello Che vi interessa Mi raccomando Fatevi un giro Perché è molto Molto interessante E insomma È bello vedere Come si possa Da Da un gioco Inizialmente Magari così Può diventare Appunto Uno sport Vero e proprio E chissà Magari Un giorno diventate Anche dei grandi Showman Che potete portare In giro Quest'arte Guarda Se volete Vi aspettiamo Tanto Le porte sono aperte Per tutti Dai 13 anni in su Fino a che vi reggono le gambe Dai 13 anni Quindi insomma Abbastanza giovani Si può iniziare Non serve aver visto Star Wars di recente L'importante Sapere un po' Cosa stanno a fare Ma dopo Lo guardate con calma Anzi Date i compiti a casa Guardate la scena No Lo consigliamo Perché comunque Ci si prende ispirazione E beh infatti Immagino 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 Matteo Grazie mille davvero Per essere qui con noi oggi Abbiamo ricordato i siti Abbiamo ricordato Tutte le informazioni che ci sono Mi raccomando Andate Vedete un po' Quello che Fanno e combinano I nostri gedi Perché insomma L'accademia è sempre aperta Si può iscriversi I vari corsi Grazie mille Matteo Andiamo avanti con un po' Di musica E poi torniamo qui A salutarci Perché Siamo quasi Agli sgoccioli Con la nostra puntata di oggi Lunedì 4 marzo 331 78 53 555 Mi raccomando